musica ma guardate ma guardate là guardate che animale guardate che animale io non ho capito che animale? appunto ma voi si dicevamo veramente non vedete che è un cane un cane? ma l'animale non è lui l'animale è il proprietario ma come sott'anno solo in questa maniera solo che spacca il prete si rimane una povera bestia in dalla maglia ma l'ha già fatto un verbale che l'ha già fatto frire e male cocere un verbale che non sono andato a ascoltare tutta la vita sola ma che animale? sta prendendo questo imbecilo ma che animale? ma te lo fa fin di niente eh signore ma venga un po' qua per cortesia ma è successo qualcosa? ma come è successo qualcosa? ma lei come pensa di vivere? lei è un animale lei è un animale e avrà un verbale che non lo dimenticherà mai più ma che modo di fare questo? ma come avete fatto a lasciare questo povera bestia in dalla macchina così? questo? ma è un beluscio non ho gesto la razza qualunque razza non si tratta così ma è successo?